In questa settimana è stato restituito alla devozione dei fedeli il più antico crocifiso ligno della Basilica di San Pietro, risalente al XIV secolo. Dopo un laborioso restauro è stato riportato all'antico splendore e sarà collocato nella cappella del Santissimo Sacramento al ricordo del Giubileo della Misericordia. Sette giorni prima della fine dell'anno santo, Papa Francesco al termine dell'Angelus ha annunciato così la restituzione alla devozione dei fedeli di uno dei numerosi tasselli del maestoso mosaico di arte e spiritualità che è la Basilica di San Pietro. Il restauro, durato quasi un anno, ha liberato da una coltre di smalti scuri un crocifisso unico nel suo genere. Dai tendini tesi delle gambe alle vene delle braccia quest'opera mostra un numero straordinario di particolari anatomici. La tradizione l'attribuisce all'artista romano Pietro Cavallini. Durante il sacco di Roma i lanzichenecchi oltraggiarono la scultura, vestendola con i loro abiti, come fosse un manichino. Oggi il suo volto sofferente è tornato a splendere e sono proprio le fattezze del viso di Gesù a rappresentare l'elemento più prezioso di quest'opera. Nel legno sono scolpiti gli ultimi gesti di misericordia del Signore, come ci spiega in occasione della presentazione del restauro il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana. È stato colto nel momento in cui cerca di inalare ossigio, inalare aria nei polmoni per poter parlare. Quindi un artista straordinario per cogliere Gesù proprio in questo particolare momento, che è il momento della massima misericordia. Quando Gesù dice, padre, perdonali, oppure a ladrone pentito, oggi sarai con me in paradiso, oppure a Maria, donna, ecco tuo figlio, l'ultimo gesto di misericordia. E poi le ultime parole, tutto è compiuto. Ecco, guardando questo crocifisso bisogna immaginare le parole che escono dalle labbra di Gesù e consegnano al mondo il segno della più grande misericordia. A definire una strategia operativa in grado di tener conto degli elementi linei che nel corso dei secoli sono stati utilizzati per ripristinare le parti danneggiate del crocifisso, oltre ai numerosi strati di ridipintura, più di 15 in alcuni punti dell'opera, è stata la restauratrice Lorenza D'Alessandro. La scienza del restauro, se dire, è andata molto avanti in quest'ultimo decennio e ci è consentito di utilizzare tecnologie all'avanguardia. Quindi i primi strati sono però stati rimossi con delle apparecchiature laser, molto precise e puntuali, per poi intervenire con delle miscele di natura chimico-fisica. E siamo stati costretti a lavorare con metodiche molto selettive e differenziate, proprio perché differenti erano le ridipinture che erano state apportate, nell'ottica di arrivare alla pellicola pittorico originale. E questa è stata la vera sfida, riconquistare la materia originale del Trecento.